Di nuovo con Buongiorno Emilia Romagna, questa mattina ospite in studio con noi Raffaella Sensoli, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, buongiorno. Buongiorno a lei, allora una mattinata comincia presto la giornata di oggi, ci dispiace per la levataccia, però visto che vediamo anche che è in un bellissimo stato, quindi cominciamo subito facendole tantissimi auguri, tantissimi auguri visto che siamo vicini al grande giorno e poi passiamo a temi diciamo più così, un po' di interesse collettivo. Sulla prima pagina, sulle prime pagine di oggi è inevitabile i titoli e i commenti sulla situazione politica di Roma e questi equilibri che sono un po' difficili da trovare, basti leggere il Corriere di Bologna che titola Allearsi e con chi? Ecco il dilemma. Come la vedete voi pentastellati dalla regione Emilia Romagna? Noi siamo un po' così alla finestra, nel senso che naturalmente ci fidiamo chiaramente di Roberto Fico in questi giorni, come ci siamo fidati nei giorni scorsi di Luigi Di Maio e dei tentativi che sono stati fatti con la Lega Nord. Purtroppo Salvini non vuole mollare Berlusconi, noi ci abbiamo provato in tutti i modi, rimanendo sempre molto concreti sui temi da affrontare, sui punti in comune che possono avere i nostri programmi. Adesso vedremo in questi due giorni cosa succederà con Roberto Fico che sta tentando una strada alternativa, d'altra parte Di Maio l'ha detto, prima o poi uno dei due forni andrà chiuso, ci abbiamo provato fino alla fine, vedremo se si riuscirà a dare finalmente un governo a questo paese perché direi che gli italiani se lo meritano ed è ora. Questi equilibri politici sono piuttosto difficili, forse anche dovuti alla nuova legge elettorale, così hanno detto in tanti, è accaduto in diversi luoghi appunto, in diverse regioni che comunque ad esempio la coalizione centrodestra è uscita vittoriosa, però poi il primo partito è poi il Movimento 5 Stelle, guardiamo a Molise ad esempio. Ecco, queste situazioni in una prospettiva futura, perché è chiaro che uno dei prossimi obiettivi e traguardi saranno le prossime regionali, tanto per guardare più nell'immediato e nel nostro vicinato per così dire. In questa ottica e stando così le cose anche dal punto di vista politico come legge elettorale, voi come la vedete? Perché non è semplicissimo per nessuno. No, assolutamente, noi infatti già in discussione di legge elettorale l'avevamo detto che comunque con questo sistema si sarebbe creato il caos, probabilmente all'epoca come abbiamo sostenuto speravano di avere gli altri partiti, la Lega Nord piuttosto che il Partito Democratico, ma anche Forza Italia, maggiori percentuali a livello nazionale, invece il Movimento 5 Stelle è cresciuto molto e si è sostanzialmente creato questo stallo. Come dice lei, naturalmente il primo partito preso singolarmente in Italia è la prima forza politica, siamo noi, gli altri poi coalizzandosi naturalmente riescono a raggiungere delle percentuali simili o di poco superiori alle nostre. Questo non facilita sicuramente la formazione di un governo. A livello regionale noi continuiamo a fare come abbiamo sempre fatto, lavoriamo, continuiamo a lavorare in maniera indipendente, se ci sono dei punti in comune su tematiche locali, regionali non abbiamo problemi a confrontarci con chiunque che sia Lega Nord piuttosto che Partito Democratico, però insomma il Movimento 5 Stelle continua ad avere la propria autonomia, la propria indipendenza e naturalmente ci auguriamo che poi l'anno prossimo alle regionali saremo noi ad avere l'onere e l'onore di governare questa regione. Allo stato attuale delle cose nel palazzo di Via Laldomoro, quali sono i vostri punti d'incontro, chiamiamoli così, più significativi con l'amministrazione locale, quali invece quelli che vi discostano di più e nel contempo magari vi avvicinano di più all'opposizione, al resto dell'opposizione? Via Laldomoro, forse Italia, ma è difficile da dire nel senso che le tematiche che affrontiamo quotidianamente sono tante, ci sono stati tantissimi argomenti su cui non siamo stati assolutamente d'accordo con questa giunta e questa maggioranza, così come su altri, invece magari ci siamo trovati più vicini e viceversa abbiamo invece ricevuto magari l'appoggio, voto positivo a nostre proposte da parte della Rega Nord e invece altre totalmente bocciate dal Partito Democratico, a volte anche con quei giochini politici che a noi piacciono poco e che sostanzialmente andavano più o meno a scopiazzare le nostre proposte per poi venire fatte proprio dalla maggioranza, bocciando la nostra e approvandola loro, insomma a noi piace rimanere molto sul concreto e sui temi, non tanto sul gioco politico. Allora andiamo proprio sui temi, comincio io, ad esempio l'accoglienza oppure la sanità oppure le grandi infrastrutture, solo per citarne alcune. Certo, ma guardi parto dalla sanità perché comunque è uno dei temi che seguo principalmente visto che sono anche vicepresidente in Commissione Sanità, la politica di riorganizzazione sanitaria di questa Regione non ci è mai piaciuta, l'abbiamo sempre contrastata, ad esempio faccio un esempio che vale per tutti la questione dei punti nascita, per noi i punti nascita di montagna andavano assolutamente preservati, non chiusi come ha fatto questa giunta, mascherandosi dietro alla questione della sicurezza. Sulla sicurezza si può investire, avevamo fatto delle proposte concrete, ad esempio chiedendo di investire le risorse regionali nell'aumento del personale e quindi nell'aumento anche della sicurezza facendo eventualmente turnare il personale tra le varie strutture sanitarie per potergli far mantenere l'esperienza necessaria anche ad assistere le partorienti, sicuramente non riteniamo sicuro per una donna che abita in montagna dover fare magari 60-70 km in inverno con la neve, con il ghiaccio e magari anche col rischio che l'elissocorso non si possa alzare in volo per poter andare a partorire il proprio bambino. La chiusura dei punti nascita è stato uno dei punti che soprattutto dopo il voto del 4 marzo ha attirato le ire dell'opposizione sull'assessore Venturi, assessore delle politiche della sanità della regione e voi continuate su questa linea. Assolutamente sì, questo per fare l'esempio che dicevamo prima, ci ha visti fortemente contrastati al PD mentre abbiamo sostanzialmente avuto la stessa posizione con la Lega Nord e con le altre opposizioni, quindi insomma da quel punto di vista lì, ripeto, si resta molto sul concreto, come faccio un altro esempio per parlare, non è tanto accoglienza però è sempre una gestione diciamo di minoranze, ci siamo visti più vicini alla posizione presa dal PD con la legge sulle micro aree e invece più distanti dalla Lega Nord per quanto riguarda appunto la gestione delle micro aree perché loro si sono dichiarati fortemente contrari, secondo noi anche, parliamo dei Rom e dei Sinti, esatto, dei Rom e dei Sinti, secondo noi anche diciamo così cavalcando un po' l'onda delle ruspe e degli slogan e andando un po' meno sui problemi concreti e sulle soluzioni da adottare concretamente, quindi come vede non è questione di simboli, di alleanze o di ideologie, si resta sui temi. Un altro tema molto caro, a lei anche personalmente, un po' come impegno personale, me lo diceva prima della messa in onda è legato molto anche alla scuola se vogliamo, no? Allora un altro tema sulle prime pagine di oggi è legato alle materne estive, un tema su cui il comune di Bologna si è trovato a dover mollare o comunque ha scelto di mollare la presa, quindi non si faranno e verranno affidati solamente ai privati. Che cosa ne pensate? Ma allora ovviamente non ci piace questa decisione, innanzitutto stanno dando anche a livello regionale dei fondi per i centri estivi prevalentemente appunto ai privati, secondo noi i servizi educativi devono rimanere prevalentemente pubblici così come ad esempio i servizi sanitari, il nostro è un sistema integrato, quindi integrato significa che ovviamente non ci poniamo a gamba tesa contro il privato, ma il privato deve servire ad integrare il servizio pubblico, il servizio pubblico deve rimanere quello preeminente perché può essere quello che maggiormente può assolvere, può soddisfare i bisogni dei cittadini. Quando si parla di servizi educativi, di materne, di asili nido si parla soprattutto non solo dei nostri bambini ma anche della possibilità per le donne dell'Emilia Romagna che ricordiamo è una delle regioni con il maggior numero di donne lavoratrici in Italia, di poter loro permettere appunto di continuare serenamente il proprio lavoro e di gestire i cosiddetti tempi di conciliazione tra famiglia e lavoro. Non è facile, siamo due donne quindi lo possiamo affermare, però insomma lo vedono anche i nostri compagni che è difficile riuscire a gestire tutto quanto. In questo il pubblico deve essere a pieno sostegno e quindi ci vorrebbe un aumento degli orari, un aumento appunto dei periodi di apertura perché se si lavora si lavora tutto l'anno, non solo fino a giugno. Questa è la situazione da noi in Emilia Romagna e come è messa il resto d'Italia? Per chi non lo sa, ricordiamolo, da questo punto di vista, ovvero sì appunto in questo caso si parla di materne estive in modo da venire incontro anche i genitori che comunque lavorano o devono lavorare buona parte dell'estate non hanno certo due o tre mesi di vacanza, ormai nessuno più li ha, quindi già questo dovrebbe fare un po' la differenza, però insomma le valutazioni poi sono anche altre e più ampie. Come siamo messi rispetto al resto d'Italia? Ma allora diciamo che eravamo sicuramente al top, ora lo siamo un po' meno, si fa sempre riferimento ai parametri europei e quindi diciamo come disponibilità di posti sia nei nidi che nelle materne siamo comunque tra i primi in classifica, bisogna ammetterlo assolutamente, non voglio dire che sia un disastro totale, però purtroppo stiamo arretrando e in ogni caso il fatto che noi siamo nella media europea non significa poi che comunque siamo tra i migliori in Europa, quindi dovremmo sempre prendere ad esempio paesi che fanno molto meglio di noi. Oltretutto faccio un'osservazione, è vero si lavora tutto l'anno, la nostra regione poi è caratterizzata da una forte presenza del turismo e quindi io vengo da Rimini quindi lo so bene, anzi a volte in alcune zone della nostra regione ci sarebbe ancora più bisogno durante i mesi estivi di avere dei servizi pubblici, dei servizi educativi aperti proprio perché magari ci sono delle mamme che lavorano durante la stagione estiva perché fanno parte del comparto turistico e magari paradossalmente avrebbero un pochino più di tempo d'inverno per accudire i propri figli. Facciamo un attimo un passo indietro, mi ricordavi appunto adesso lei ricordava che è di Rimini, quindi Romagnola, prima parlavamo della sanità, nonostante lei sia Romagnola c'è un neo che riguarda Cona, l'ospedale di Cona che non è proprio del tutto Romagnolo, diciamo più ferrarese che Romagnolo, su cui lei però ha focalizzato la sua attenzione già da tempo e ha anche presentato un esposto. Sì ho presentato un esposto perché diciamo Cona purtroppo è un grande neo all'interno della nostra sanità, l'ultima, una delle ultime cose che abbiamo trovato e alle quali continuiamo a chiedere spiegazioni alla Giunta che purtroppo non ci arrivano è un buco da quasi 100 milioni di euro che deriva in parte dalla vendita per 30 milioni del vecchio ospedale che ancora non è stato venduto, ma per la maggior parte per circa 65 milioni di euro proviene da dei mancati introiti da parte dell'Inail che aveva promesso di acquistare una parte dell'ospedale e poi in corso d'opera si è tirata indietro, si è tirata indietro nel 2012 ma noi abbiamo trovato nelle carte successive al 2012, quindi in corso di euro coperti da Inail, ma le carte ci dicono che appunto in realtà Inail aveva detto no io questi soldi non ve li do più, vogliamo capire quali sono effettivamente poi le coperture che ha trovato la Regione Emilia Romagna per questi 65 milioni di euro perché altrimenti c'è qualcosa che non va, ovviamente noi non stiamo qui a fare i giudici, abbiamo fatto un esposto alla Corte dei Conti e alla Procura proprio perché deve essere chi di dovere a eventualmente emettere una sentenza, però abbiamo notato che qualcosa che non quadra c'è, stiamo ancora attendendo risposte, quella che ci è arrivata per ora dalla Regione è piuttosto vaga, anzi in alcuni punti conferma i nostri dubbi perché addirittura nella relazione di collaudo continuano a comparire questi 65 milioni coperti da Inail, specifico che poi la Regione ha tutto diritto di fare ricorso perché questi soldi erano stati promessi con un rogito e non l'ha fatto, quindi chiediamo perché. Chiudiamo con un tema più leggero, la Piadina IGP è solo romagnola, l'ha detto l'Unione Europea, immagino la gioia di questa notizia. Esatto, evviva, dopo l'IGP dove oltretutto si distingueva anche la Piadina romagnola alla riminese perché la Piadina è più sottile, mentre invece quella spostandosi sul Cesenato è un pochino più alta. E qui c'è del campanilismo, non abbiamo tempo di parlarne. L'Italia è il paese dei campanili, poi in realtà ci si ride sopra naturalmente. Finalmente l'Europa ci riconosce un qualcosa di nostro, di tipico e ne siamo orgogliosi dopo che hanno tentato di far chiudere i forni a legno, i formaggi di fossa per rimanere sempre in Romagna, almeno la Piadina ce la riconoscono. Raffaella Sensoli, consigliere regionale Movimento 5 Stelle, grazie mille per essere stata qui con noi, augurissimi, perché presto sarà mamma, augurissimi da ancora.